Salve a tutti, intanto ringrazio l'associazione Semiaforma per averci dato questa possibilità e questa sera faremo due brani, eseguiranno i ragazzi due gruppi, diciamo un gruppo di seconda, di seconda media e un gruppo di terza, quindi il primo brano è un brano dal titolo Camillion, un brano scritto da me per loro, e poi il secondo brano invece si chiama Battle Royale di Angela Pibli, il primo brano ha un organico particolare perché appunto ha due grogespill, delle percussioni appunto da buca, bullet block, nack e triangolo, mentre il secondo brano è esclusivamente per Tammuri, quindi diciamo, cercate insomma di, in senso vi chiedo di resistere al volume sonoro che è qui dentro al tuo brano, è molto presente insomma, e vi faccio entrare ai ragazzi e vi presento, ecco, benedetta Piovesano, Sara Pontorillo, Tommaso Menoncelli, Zano Eccolo di la roba, Mattia Luggeri, che sta mettendo la roba, ok, poi Giulia Peralec, Elisa Conti, Stefano Peluso, Beatrice Lucidi e Rebecca Napoli, cominceremo il brano in seconda, ok, poi quindi non suonate, ok, ok, buon ascolto, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti